Ciao ragazzi, Samu di Hot Startup e rispondo alla domanda Ma è meglio fare l'influencer su TikTok o Instagram? Quale piattaforma scegliere? Devo buttarmi? Voglio davvero riuscire a fare qualcosa come influencer nella vita? Allora, la risposta a questa domanda è molto molto semplice Come sapete io le risposte le do subito, immediatamente, senza giri di parole senza dirvi di aspettare 10 minuti È meglio TikTok ragazzi A questo momento TikTok è sicuramente il social che sta crescendo di più è quello che sta investendo di più in pubblicità hanno un po' smesso adesso devo dire la verità perché hanno raggiunto l'obiettivo di diventare davvero presenti diciamo ogni presenti hanno quasi un monopolio per i giovani soprattutto direi dai 12 ai 20 anni e hanno risolto secondo me un problema che era stupidissimo che Instagram onestamente io non capisco il fatto che le storie su Instagram vadano a scomparire dopo 24 ore onestamente è assurda come cosa invece TikTok ti permette di costruire del contenuto stile YouTube però sono dei video short solitamente usando degli effetti speciali molto molto fighi è molto molto facile da usare costruisci tantissimo contenuto che rimane nel tempo quindi nel caso in cui una persona dovesse poi scoprire il tuo contenuto più avanti diventerà un tuo follower mentre Instagram non è così Instagram è davvero in un certo senso direi sconsigliato anche se poi magari le storie ci sono modi in cui il contenuto rimanga più a lungo ma non cambia ragazzi non funziona secondo me Instagram è andato un pochino a morire c'è stato un momento in cui era l'unico perché non c'era TikTok e quindi c'era la facilità della foto mettere due filtrini TikTok ha rivoluzionato completamente il mercato io non uso TikTok ci tengo a dirlo non ho nessun interesse non sono un TikTok fan o un Instagram fan o quant'altro ho usato Instagram in modo professionale ci ho lavorato dietro diciamo parecchio per poi capire per tantissime anche società e aziende che cosa serve e che cosa non serve TikTok ha questo genere di vantaggio ma quale devo usare come piattaforma per guadagnare più soldi invece si guadagnano dei soldi sulle piattaforme quale mi consigli allora considerando che entrambe le piattaforme non provvedono un modo per monetizzare in modo diretto ok perché tu non puoi inserire la pubblicità nella tua pagina TikTok o nel tuo profilo e guadagnare direttamente lo stesso vale per Instagram l'unica tua soluzione è la vendita dei prodotti ok che su Instagram sappiamo funzionare malissimo TikTok non è che funzioni molto meglio quant'altro quindi si tratta proprio di fare brand awareness o comunque di diventare diciamo un influencer per cui le persone ti seguono poi si appassionano a te poi li spingi a visitare il tuo sito è sempre roba abbastanza macchinosa devo dirvi la verità ok io sotto questo punto di vista do molto molto più diciamo credito in questo momento a YouTube dove poter guadagnare però detto questo detto questo definita questa cosa qua comunque è possibile guadagnare di che cifre stiamo parlando? in generale per poter fare il salto per poter guadagnare cifre importanti bisogna avere davvero tantissimi follower su TikTok si parla quasi di milioni di followers comunque stiamo io a partire da 50-100 mila bisogna crescere davvero tanto per poter guadagnare delle cifre interessanti quindi è abbastanza complicato si usa come ho spiegato anche in altri video come si dice in maniera complementare ad altre attività che si possono portare avanti e quant'altro si può comunque costruire un prodotto per cui che ne so una ragazza un po' carina fa tantissimi video divertenti con le amiche al tempo stesso magari indossa dei vestiti e tutto quanto che poi va a vendere guardando TikTok è possibile non è che non sia possibile è possibile fare l'influencer fare in modo di essere pagato che ti contattino le case dicendo ciao metti la mia maglietta parla del mio prodotto anche sul tuo canale TikTok assolutamente sì ma si tratta di avere tanti tanti iscritti bisogna fare davvero tante visualizzazioni e poi il fatto che la gente non è che vada su TikTok e faccia delle ricerche precise sui prodotti è poco targettizzato invece se dovessi andare su YouTube io su YouTube potrei fare una ricerca del tipo quale computer comprare prendiamo una cosa più semplice lo cerco su YouTube ormai fammi vedere ma è meglio la macchina fotografica del Samsung o dell'iPhone ok? e poi lo stesso a livello di altre cose che magari non sono relative solo ed unicamente alla tecnologia ma altre cose posso parlare di quali prodotti comprare per pulire per fare tantissime robe onestamente YouTube è un catalogo infinito di informazioni di review e via dicendo ok? quindi volevo darvi questo un attimo il mio feedback tra i due comunque Instagram e TikTok in questo momento ragazzi andate su TikTok che io personalmente non uso ho poca esperienza cioè io ripeto sempre la mia esperienza io la valuto nell'ambito business non in maniera amatoriale e con mesi se addirittura anni di utilizzo Instagram lo utilizzo da anni da quando è nato Facebook Facebook pages così li utilizzo da anni da quando è nato YouTube lo utilizzo da tantissimi anni Twitch ho meno esperienza LinkedIn lo uso da tantissimi anni cerco di essere sempre molto onesto ragazzi non sto diciamo a girare attorno e poi guardo molto anche quanto spendo io se spendo su un canale di pubblicità 10, 20, 30, 50 mila all'anno ho un certo tipo di esperienza se ho fatto una volta un investimento da 500 euro ragazzi non posso andare in giro e dirvi oh ragazzi io sono un esperto no vi dirò ragazzi io l'ho fatto una volta e quella è la mia esperienza ok però tra i due sicuramente in questo momento scegliete TikTok ok spero di avervi aiutato in questo video sono Samo Gliop Startup mi raccomando iscrivetevi al canale farò tantissimi video per aiutarvi nella vostra carriera di influencer ciao ciao